vedete lì in fondo le colombe e vedete qui mangiare specifico ora glielo portiamo sono le 11 e 42 e 5 febbraio 2023 mi pare che questo è il grano ma queste mangime adatto così pranzano pranzano pure loro eccole la scusate che magari ora un po sono eccolo qua vedete è un po movimentato il video abbiate un attimo di pazienza che adesso che adesso vedete eccolo qua che adesso io lo diamo ora mi metto mi siedo qua guardate qua mi siedo qua mi siedo qua scusate che magari un po che movimentato il video eccolo qua vedete se capiscono che è grano aspettate un attimo che magari lo metto così un attimo solo lo metto qua così aspettate un attimo così vedete che lo apro aspettate eccolo qua lo aspettate un attimo che apro vedete pure questo eccolo qua stanno arrivando alti stanno arrivando alti hanno capito che hanno capito che hanno capito che hanno capito che aspetta un attimo anzi voglio mischiare con questo così così questo è arrivando qualcuno che siete caduto per errore fuori e stanno mangiando aspettate un attimo aspettate aspettate un attimo che è carico forco di cristo forco di cristoforo colambo perché deve cadere non l'ho capito io è stata ferma ma io non lo so perché non lo so perché deve cadere sta porcheria allora 11 e 45 5 febbraio 2024